Parliamo di arte e soprattutto diciamo di pittura perché insomma c'è una straordinaria mostra alla National Gallery di Londra dedicata a una straordinaria pittrice, Artemisia Gentileschi che insomma è una pittrice che si impone solo da un certo punto in avanti, più o meno dal 1600 anche se ti potrei fare il nome di un'altra meno famosa di Artemisia Gentileschi Dai sfoggia, dai sfoggia Sfoggia Lo sai che io ti voglio bene, tanto, tanto bene, dopo te lo dico No, devi dirlo adesso Sofonisma Anguissola, una pittrice del 1500, una straordinaria personalità che però non diventa famosa come Artemisia ma insomma è di Artemisia che quest'oggi parliamo e allora ti presentiamo Marco Allora, ne parliamo con Fabrizio Moretti, direttore del Biennale di Arte e Antiquariato di Firenze collezionista d'arte al quale chiediamo perché il senso, il senso naturalmente ce l'ha da solo ma insomma questa mostra di Londra su Artemisia Gentileschi, dimensioni, contenuti eccetera Nel frattempo ci avviciniamo al nostro... Ci avviciniamo, avviciniamoci Prego Buongiorno Intanto la mostra di Londra nasce da un'acquisizione della National Gallery, questa Santa Caterina dipinta nel 1614 un quadro a cui io ho appunto aiutato il museo nell'acquisto è stato pagato 4 milioni e mezzo di euro, pensi, e questo fa capire quanto l'artista oggi sia importante anche sul mercato artista che nasce a Roma, figlia di Orazio Gentileschi, uno dei più grandi artisti appunto con Caravaggio del Seicento e poi si sposta a Firenze dove incredibilmente nel 1616 appunto dopo aver subito tristemente la violenza da parte di Agostino Tassi a Roma riesce a entrare nell'Accadema del Disegno è la prima donna nella storia continua il suo viaggio, torna a Roma, va a Venezia, va a Napoli dove mette su una bella bottega e diventa così una paladina appunto tra i pittori, tra gli artisti del Seicento italiano ecco, io prima ho scherzato sul nome di un'altra grande pittrice la verità è che non è che non ci sono state le pittrici, che se ne racconta poco è così? sì, è così e poi bisogna anche riconoscere che comunque era un mondo molto maschilista e quindi bisognava veramente essere forti Artemisia lo era, era una donna tenace che rappresentava appunto le eroine le donne che volevano riscattarsi e si vede questo proprio nella sua pittura e anche nei suoi autoritratti in cui lei è sempre forte sono quasi ritratti cinquecenteschi come impostazione ci sono però delle donne ritrattiste nell'ottocento, vedutiste però io mi accorgo di non ricordarmene il nome nonostante che tutto sommato ci sia concordo veramente con lei lei risponde appunto già alla domanda con quello che ha detto però oggi abbiamo tantissime artiste contemporanee bravissime vengono a pensare a Jenny Savile, artista inglese che lavora sulle ombre di Lucian Freud insomma oggi il mondo è più equo ed è giusto che sia così poi secondo me l'arte è assessuata l'arte è assessuata? cioè la bravura non è né maschile né femminile l'arte è un'energia questo è un'ovvietà però insomma il contrasto che ci siamo detti di noi diciamo che è una culta ovvietà è una culta ovvietà è vero, il talento artistico è il talento punto, non è necessariamente è la prova che esiste un'energia l'arte la vediamo un'opera di Artemisia Gentileschi Giuditta che taglia la testa d'Oloferne questo è uno dei quadri più importanti che lei esegua a Roma dopo la violenza subita si narra appunto che la testa di Oloferne sia il ritratto di Agostino Tassi è interessante questo quadro che lei giustamente punisce però c'è violenza in questo quadro ma è una violenza composta vede questi anche schizzi di sangue che non sono così appunto cruenti come nell'opera di Caravaggio che sicuramente Artemisia vede a Roma in quegli anni e un po' lo ricorda no? esatto, ricorda moltissimo infatti voglio dire lei è la donna che è giuditta è arrabbiatissima diciamo sta veramente vendicando si sta vendicando è arrivato con l'aiuto dell'Ancella quindi un'altra donna la sta aiutando appunto in questa specie di massacro Ancella però che nella realtà l'avrebbe tradita che quando lei fu violentata appunto ci fu questa Ancella che era in casa che era consenziente con Agostino Tassi e lei appunto credo che con questo quadro volesse in qualche maniera punire anche l'Ancella Monica, abbiamo un'altra donna con cui parlare questo è sicuramente di Artemisia un racconto attraverso la sua arte di un'esperienza di violenza quindi anche di un tentativo di rivalza rispetto a quel che è accaduto però insomma c'è anche in questo racconto la storia delle donne di come in qualche modo si fanno strada in una società che spesso non è amica Virginia Stagni che noi di uno mattina il nostro pubblico la conosce molto bene una ragazza giovanissima di 24 anni che è diventata la più giovane manager pensate del Financial Time e che è un appassionata di Artemisia Gentileschi vero? ecco quindi vedi che poi alla fine verissimo nonostante la distanza nel tempo ci sono delle storie che in qualche modo si incrociano no Virginia? beh sicuramente adesso non oserei mai fare il parallelo tra un artista come Artemisia e altre ragazze come me che stanno cominciando insomma la loro carriera nel mondo del giornalismo dell'editoria certamente c'è una certa tenacia e passione per il proprio mestiere che è quasi richiesto a chi vuole entrare in campi o industrie che sono prettamente rappresentate come ambiti maschili o comunque dominati dal maschile e cosa che invece diciamo che per nostra fortuna oggi non è più così nel senso che non solo io ma siamo tantissime altre ragazze ci stiamo avvicinando ai mestieri della finanza così come al mondo del giornalismo e ovviamente veniamo molto più rappresentate io non credo che non esistano donne con il mio ruolo già da 20-30 anni il grande problema è quello della rappresentazione e dei modelli di rappresentazione sì il problema è che però mentre cresce l'emancipazione femminile temo che crescano anche i delitti contro le donne sicuramente ovviamente credo che quello che vogliamo dire oggi è che Artemisia è un esempio di testimonianza e di denuncia rispetto alla violenza subita e lo ha fatto nel 600 quindi qualcosa che era totalmente inaudito oggi diciamo che oltre a spingere qualsiasi persona che subisca violenza a denunciare diciamo che comunque si incontrano ancora delle difficoltà rispetto al tema si pensi a tutto il movimento Me Too quanto sia stato difficile denunciare per tantissime donne Senti Virginia è vero che insomma c'è una valenza che possiamo riscontrare la reazione alla sopraffazione la sopraffazione può essere violenza fisica può essere violenza psicologica può essere anche diciamo la difficoltà ad affermarsi perché come dire tu provi ad arrivare a crescere ad affermarti e c'è qualcuno che ti blocca brevemente ci racconti come sei riuscita diciamo ad arrivare a fare la manager di un importantissimo gruppo editoriale a 24 anni perché insomma non è un fatto così scontato no Marco quanto meno da noi certo beh sicuramente Monica quello che mi piace dire è che ci vuole tantissima tenacia tantissima voglia di farcela e proattività e credo che sia insomma delle qualità che siano tanto quanto appartenenti al genere maschile quanto al genere femminile ovviamente io ho avuto delle persone che hanno creduto in me una volta che mi hanno incontrato non credo che la loro decisione rispetto all'assunzione o meno fosse dettata dal genere ma sicuramente diciamo che è anche tanto importante fare sistema anche tra altre donne che sono all'interno di industrie che spesso appunto vengono definite del maschile un'ultima parola su Artemisia Moretti sull'autoritratto di Artemisia come possiamo definirlo ma forse l'autoritratto di Ubella è quello compendente nelle collezioni reali inglesi esposto appunto alla mostra alla National Gallery dipinto nel 1635 l'allegoria appunto di se stessa come pittrice lei alla fine ha 45 anni si fa sicuramente un pochino più giovane scapigliata e si vuole appunto far ricordare dal pubblico non tanto come una donna ma come un artista che ha dovuto soffrire ha dovuto combattere ha dovuto anche una pittura una pittrice e ha dovuto combattere appunto con la fama del padre che lei appunto raggiunge in Inghilterra ed esegue questo quadro in Inghilterra fatto per Carlo Primo Bene grazie ai nostri ospiti grazie davvero Virginia Stagni grazie a Moretti per essere stati con noi